L'atleta del circolo schermaterni Elena Ferracuti, spadista, sta riscuotendo notevole soddisfazioni non soltanto a livello agonistico e sportivo, ma anche personale. Si è infatti felicemente laureata con 110 elode in fisioterapia con la tesi Scherma e Scoliosi Un Case Report, un argomento che la riguarda da vicino in quanto campionessa di scherma. Elena ha voluto porre all'attenzione nel suo studio i benefici della scherma sulla salute dell'individuo. Ha realizzato il suo lavoro in 10 mesi di trattamento, da dicembre 2021 a settembre 2022, prendendo il caso di una giovane schermitrice. L'obiettivo della ricerca era stabilire che la scherma può essere uno sport terapeutico per la Scoliosi.